Squali, terribili predatori. Tornadi, sciagure della natura. Ciao a tutti, sono Casanova Wanker Wai dei 400 Calci. Ecco il decalogo per sopravvivere a uno Sharknado. Fingetevi morti. Per simulare il trapasso potete rimanere immobili, trattenere il respiro, rallentare il battito cardiaco mediante meditazione yoga. In alternativa, va bene anche una relazione con Tara Red.